Sono molto contento di essere qui, di aprire questo fantastico gruppo che, come sapete, ha fatto la storia della musica. Io ho 25 anni, quindi per me è un onore. Io sono Romano Reggiani, lavoro come attore per cinema e televisione, ma sono anche un cantautore. Esce oggi il mio album con Aria Sonica Records, che è un'etichetta molto importante, indipendente, italiana. Presentiamo questo progetto folk. Lo presento con il mio chitarrista Francesco Guizzardi. Io di solito vengo accompagnato da una band, ma in questo caso facciamo un'apertura molto folk, molto in stile anni Sessanta, ricordando un po' quell'ambiente di Dylan, Greenwich Village, quello che circonda poi anche il contesto musicale di stasera. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Now fuck wants to have something good to feel Even if that's not possible More more choice for you More more choice for you More more for you You have a pen but you don't have mine really When you choose you have only butter in your brain Yes or no, yes or no Yes or no, yes or no Yes or no, yes or no Maybe why, maybe why Maybe why, maybe why Or maybe why Maybe why, maybe why Sometimes that sounds great The pen's like gun At least the gun kills To be hungry of death You make love No, you could Think but That's good, yeah That's good to destroy the world Only we, the fucking pen and some Fucking right Only we, the fucking pen and some Fucking right Fucking right Thank you 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 Grazie.